musica ragazzi ancora ci sono lavori in corso nel mio bagno perché si deve montare il sifone di giù dove il meditino qua sotto ancora guardate come è smontato però già il mobiletto è stato quasi montato aspetta un momento qua vediamo che qua si vede meglio visto? il rubinetto l'ho preso come quello di sotto di lì sotto però l'ho preso stavolta nero così comunque poi abbiamo montato pure la porta doccia ragazzi oggi c'è un freddo un tempo veramente bruttissimo poi appena finiscono dobbiamo pulire tutto oggi c'è un tempo molto molto freddoso uno si vuole mettere a piovere ragazzi mamma mia però mi piace questo tempo qua che sto a casa a calduccio comunque spero che vi piaccia la mia cabina no cabina armadio come si dice è porta doccia ileri come sempre si fa sentire comunque stiamo trasformando il bagno ragazzi oggi in farmacia ho preso questo integratore multivitaminico della squisse che contiene la vitamina del gruppo B che serve per l'energia poi estratto d'uva che è un antiossidante poi ferro che favorisce la formazione dei gobeli rosse siccome io ho un periodo che ho chiuso in pesonno stanchezza magari mi aiuterà a sentirmi un pochino meglio comunque io lo provo già ne ho preso una io lo provo e poi vi dico com'è e magari poi lo provo da pure voi grazie a tutti 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 grazie a tutti